L'Iserni è l'unica molisana a scendere in campo. Sul neutro di Capriati a Volturno è di scena la Sant'Egidiese, squadra impelagata nella lotta per non retrocedere, ma da roster importante. Dopo la lunga sosta, Logarzo ottiene sulla corda i suoi e schiera la migliore formazione. Non c'è Petrone, approdato all'Arzanese, la numero 7 finisce sulle spalle di Rubino, che supera la concorrenza di Parisi. Il presidente Monfreda, attorniato dal suo staff, vuole la partita perfetta anche in considerazione del big match in programma mercoledì a San Benedetto del Tronto. Sarà accontentato dalla squadra con Logarzo, che punta sul collaudato 4-4-2, con in attacco la coppia Panico Covelli. In mezzo al campo, invece, a menare le danze, è Manzillo. Pronti via e la Sant'Egidiese è subito aggressiva. Il calcio d'inizio della formazione di Fontana è quantomeno sui generis. Dieci giocatori sulla linea bianca, pronti ad aggredire la metà campo avversaria. Molta scenografia, poca concretezza. Il primo squillo di Tromba è di Di Pastena, ma il suo diagonale non è precisissimo. Al settimo, la Sant'Egidiese fa capire che lì davanti è forte. Ragazzu lavora un buon pallone per Allegretta, che si mangia un gol grosso come una casa. Destro strozzato, Marco Nato ringrazia. Si vede pure Covelli con questo sinistro. La giocata preferita dai padroni di casa è il tiro dalla distanza. Manzillo scalda le mani a ripa. Ancora una conclusione da fuori. Siamo al ventiduesimo. Questa volta è Panico ad impegnare l'attento portiere abruzzese. Al ventisesimo, Ragazzu, tra i migliori della categoria nel suo ruolo, si beve mezza difesa, ma sul più bello preferisce la forza alla precisione. Conclusione inguardabile. I tifosi dell'Isernia tirano un sospiro di sollievo. Al Ragazzu risponde Panico, ma la sua conclusione pecca di precisione. Minuto 35 di Pastene e Panico dialogano bene, ma l'ex Venafro conclude a lato. La Sant'Egidiese abbassa il suo baricentro. L'Isernia inizia a spingere sull'acceleratore. La primavera palla gol dei Pentri giunge così al minuto 42. La punizione laterale di Manzillo crea più di qualche grattacapo alla retroguardia ospite. La sfera ritorna al centrocampista, che vede e serve digno il cui colpo di testa libera Maglione, che c'entra il palo, con un destro terrificante. Pochi minuti e arriva l'episodio che aiuterà l'Isernia ad agguantare i tre punti. Già monito la vista, becca il secondo cartellino giallo. Santi in dieci, Isernia protesi in avanti alla ricerca del gol. Rete che arriverà nel recupero grazie al solito Ciccio Covelli. Il suo è un sinistro chirurgico sul quale Ripa non può farci nulla. Uno a zero e tutti negli sfogliatoi. L'Isernia col sorriso sulle labbra, santa rabbiosa, verso il direttore di gara. Con le immagini siamo nella ripresa al tredicesimo ragazzo. Il migliore dei suoi illumina Censori, che non vede la porta. Fontana passa la difesa a tre, Logarzo toglie di passena. Un centrocampista per inserire Vano una punta. Voleva che la squadra giocasse il tre contro tre in attacco di Raffine Gara. E proprio su una ripartenza di Vano, Isernia trova il gol della sicurezza. Vano innesca il 3-2 e serve Panico, che con un destro forte e preciso non lascia scampo a Ripa. In tribuna inizia la festa bianco-celeste. Per Panico, ottavo gol e sostituzione. Logarzo torna al 4-4-2 con Rodia esterno di sinistra. La Sant è allo sbando. Vano in becca a Covelli, che potrebbe calare il tris, ma si fa murare la Ripa. Davanti al quale c'è un'autostrada che Vano percorre a mille all'ora. Lo spilungone sorprende Ripa sul suo palo e chiude la contesa. L'Isernia è forte, sta bene. La Samedettese è avvertita.